Direi di iniziare. Senz'altro io credo che sia già collegato da remoto Enrico Giovannini, credo che tutti conosciamo Enrico Giovannini per la sua azione di governo, è stato ministro delle infrastrutture, è attualmente responsabile dell'ASVIS, l'associazione per lo sviluppo sostenibile, di cui è stato fondatore e mille altre cose, la sua storia professionale è lunghissima, come presidente dell'ISTAT, docente universitario tuttora, quindi una storia professionale e istituzionale importante. Ecco, il tema è un tema ampio, Enrico Giovannini, la parola a Enrico Giovannini, prego. Grazie mille, spero mi sentiate bene, io ho seguito gli interventi precedenti e vi ringrazio per questo invito e mi dispiace di essere solo a distanza, ma ho insegnato appunto fino a pochi minuti fa e quindi non sarei riuscito ad arrivare in tempo da voi. Provo a fare quattro provocazioni, se posso, anche perché vista l'ora tarda, insomma, provo a scuotere alcuni punti. Il primo tema che vorrei trattare, non è la prima volta che l'ho tratto da appunto uno statistico, ricordo il lavoro che abbiamo fatto come commissione sul futuro del lavoro dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro di alcuni anni fa, è che finché noi consideriamo le spese di formazione un costo e non un investimento, nei nostri sistemi contabili abbiamo una distorsione che non è facile da ribaltare, se non grazie a imprenditori lungimiranti che ti chiedono prima di scrivere su un foglio di carta e poi di passare al tablet, eccetera, eccetera, perché questa contraddizione è una contraddizione in termini, sempre più se siamo nella società della conoscenza l'investimento nel capitale umano, nel quello che le persone sanno dovrebbe essere trattato come tale, ma è una distorsione di cui il nostro paese soffre in modo particolarmente forte. che bene hanno fatto, prima il governo Renzi, ora il governo attuale, a prevedere nei vari finanziamenti per industria 4.0, adesso 5.0, transizione 4, scegliete voi i nomi, di prevedere per le imprese, proprio per segnalare questo cambiamento di mentalità, dei sistemi di incentivazione per la formazione nel mondo dell'impresa. Questo è sufficiente? Ovviamente no. Ricordo che il nostro paese ha un livello di numeracy, di literacy, cioè di competenze di base drammaticamente basso rispetto a quello degli altri paesi, anche perché non abbiamo un sistema degno di questo nome di educazione continua degli adulti. Negli ultimi anni le imprese, non tutte, quelle più dinamiche, hanno capito che comunque sia dovevano investire e l'hanno fatto. E guarda caso, ce lo dicono i dati dell'Istat a livello micro, le imprese che hanno investito anche in capitale umano hanno performance superiori. Ma, e qui viene il secondo tema, il riconoscimento del capitale umano, della qualità delle competenze, non può avvenire semplicemente al momento dell'assunzione o nella formazione, appunto, nel corso della vita lavorativa, ma deve essere riconosciuto anche nei sistemi di remunerazione. E qui abbiamo una debolezza drammatica in Italia in termini di salari d'ingresso, di premi per la qualità, per cui, lo sappiamo, basta parlare con qualsiasi direttore personale, abbiamo una sistematica preferenza da parte delle persone con maggiori competenze di imprese e anche di amministrazioni estere, straniere. Vuoi, perché sono multinazionali e operano in Italia, e quindi sono però più allineati dal punto di vista degli stipendi, vuoi perché i nostri giovani migliori vanno all'estero, nulla di male, ma noi non riusciamo ad attrarre capitale umano di altissima qualificazione perché paghiamo poco le persone, soprattutto i giovani, soprattutto le nuove professionalità. Allora, nel momento in cui al centro di questa discussione, correttamente, è stato messo questo tema, beh, bisogna parlarsi molto apertamente, molto chiaramente. Questi sono investimenti necessari sul futuro dell'impresa. Non sono un'aggiunta, un costo, anche se contabilmente lo sono. E noi abbiamo imprese straordinarie che hanno capito tutto questo e abbiamo una massa non banale di imprese che non hanno capito tutto questo e che fanno competizione sleale, pagando poco, talvolta anche in nero, ed evadendo. Questa divaricazione tra l'eccellenza e il tentativo di mantenere posizioni di rendita, direbbe qualcuno, non adeguate, è un qualcosa che appesantisce il nostro sistema. E il terzo elemento che vorrei sottolineare, anche questo provocatorio, nella confusione tra costi e investimenti, rientra anche la confusione sulla transizione ecologica e quella digitale. Di nuovo, i dati Istat, dati Union Camere, dati Sace, ultimamente, mostrano come le imprese che hanno deciso di investire simultaneamente su digitale e transizione ecologica, guadagnano produttività, aumentano quote di mercato, sono più redditizie e aumentano occupazione e profitti. Allora, io comincio a essere un po' stufo, sinceramente, non mi riferisco naturalmente a questo incontro, di chi dice che queste transizioni sono un costo. E mi piacerebbe che, culturalmente, noi spostassimo l'onere della prova di chi deve mostrare che questi sono costi e non investimenti, con un ritorno anche relativamente a breve scadenza, spostare l'onere della prova su chi continua a ripetere questo mantra facendo confusione dal punto di vista contabile tra costi e investimenti. Questo è il punto chiave ed è il punto chiave che mi porta alla quarta provocazione quando, da cui parlo di nuovo da statistico, da economista, qual è l'indicatore classico di competitività? Il costo del lavoro per unità di prodotto. Questo indicatore è usato tipicamente perché si suppone che le tecnologie siano date e dunque il fattore di costo variabile più importante nel breve termine è il costo del lavoro. Quindi tutti a confrontare la competitività dei paesi in termini di un indicatore che non ha nessun senso nel momento in cui, come hanno detto i rappresentanti delle imprese che hanno parlato poco fa, la tecnologia sta cambiando a una velocità supersonica ed è quello che fa la differenza. L'abbiamo sentito prima nella logistica, l'abbiamo sentito poco fa nei servizi alle imprese, quello cambia la competitività, non il costo del lavoro per unità di prodotto e noi ci ostiniamo a usare una misura novecentesca se non ottocentesca. Come vedete dunque abbiamo seri problemi nei nostri sistemi contabili di valutazione e ciò nonostante tante imprese ottengono i risultati che ho citato? Basta vedere le analisi ISTAT sui rapporti di competitività basata sui micro dati come si veda che l'elemento di competitività non è semplicemente, conta anche ovviamente, il prezzo ma è il valore intrinseco dei beni e servizi che vengono forniti alla luce del mutamento della domanda e delle preferenze dei consumatori e delle imprese. Dunque, mi avvio alla conclusione con tre raccomandazioni. La prima, APCO e altri fanno un lavoro assolutamente straordinario ma abbiamo bisogno di portare la cultura imprenditoriale nel senso degli imprenditori ma poi anche manageriale a un livello più alto a un livello adatto a un mondo che cambia appunto a velocità supersonica e che può guadagnare competitività quote di mercato e dunque redditività e far crescere l'occupazione solo se non gioca in difesa ma gioca in attacco. E giocare in attacco vuol dire far capire che i parametri con cui si misura il successo di un'impresa oggi sono diversi da quelli anche solo di vent'anni fa. Secondo elemento. La strategia europea il Green Deal altro grande equivoco non è mai stata una strategia ambientalista. Chi parla di ideologia o non sa quello di cui sta parlando oppure semplicemente gioca con le parole. Perché? Perché la logica e l'abbiamo sentito poco fa di nuovo dai rappresentanti delle imprese è che il mondo o si sposta su una sostenibilità non solo ambientale ma a tutto campo oppure il futuro è insostenibile. Guardate cosa è successo oggi a Dubai tanto per fare un esempio in termini di danni devastanti in un giorno ha piovuto quanto piove un anno e tutta Dubai era sott'acqua. Questo è solo un esempio. Allora qual era l'idea del Green Deal? Che se il mondo va in questa direzione e le nostre imprese nostre in senso europeo sono sulla frontiera avranno un mercato mondiale a cui vendere beni e servizi e dunque far crescere l'occupazione far crescere il reddito e migliorare la qualità della vita e il benessere degli europei. Ovviamente questa trasformazione richiede uno sforzo straordinario da parte di tutti e non ho nessuna difficoltà a pensare se in questo sforzo sia partito qualche colpo di troppo diciamo così in termini per esempio di oneri sulle imprese. Ieri a questo evento in cui tra l'altro hanno parlato Draghi Letta e il sottoscritto gli unici tre invitati che non avevano un ruolo istituzionale nel dibattito delle parti sociali e politico il tema è stato sollevato da Letta in termini di mercato interno la riduzione dei costi diciamo così burocratici amministrativi per le imprese che l'Europa sopporta rispetto ad altri mondi. abbiamo bisogno dunque di andare in questa direzione ma e questa è l'ultima considerazione che pongo molto provocatoria mi rendo conto le ultime direttive europee che sono passate con l'accordo dei paesi cioè degli stati e cioè la direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità che si allarga anche alle medie imprese e la direttiva sulla due diligence che vuol dire che le imprese capofiliera diventano responsabili anche le imprese non europee questo è un punto importante per ciò che succede in tutta la filiera sono veramente dei cambiamenti profondi e dunque chi si occupa di formazione nelle aziende chi si occupa di consulenza consulenza strategica formazione dei quadri manageriali deve fare un'accelerazione importante perché come ha detto mesi fa il presidente del sistema moda quindi non un pericoloso comunista o ambientalista siamo in una nuova fase del capitalismo e chi capisce questa nuova fase e la interpreta può avere tutti i vantaggi che questa trasformazione comporta chi non la capisce e prova a resistere probabilmente uscirà dal mercato ecco questo passaggio culturale di una nuova fase del capitalismo è tutt'altro che semplice da realizzare ma soprattutto da concepire ma è l'unica strada per far fare all'Italia al nostro paese all'Europa e a tutto il mondo il salto verso un futuro equo e sostenibile grazie 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 al ministro Giovannini per queste provocazioni che sono messaggi molto coerenti con quello che abbiamo sentito dagli altri relatori oggi siamo di fronte a una transizione estremamente rilevante estremamente importante in cui ci dobbiamo impegnare ma che vede e questo ce l'ha ricordato con una certa chiarezza in realtà non c'è un'Italia unica ci sono due Itali di cui una è più avanti e fa le cose di cui stiamo parlando quindi innovando con etica e con attenzione all'economico e al sociale e anche a chi sta avanti e chi sta più indietro e c'è un'Italia che è più zavorra che non riesce a innovare o non vuole o cerca benefici di breve periodo ma danno un po' di tutto quanto quello che è la nostra capacità di stare su un mercato mondiale sempre più esigente quindi questo è un messaggio che dobbiamo sempre tenere presente così come dobbiamo tenere presente questa distinzione importantissima tra costo e investimento noi dobbiamo concepire e sono tanto tempo che lo diciamo insomma uno dei principali forse più importanti investimento nel nostro paese è quello nei giovani nella formazione e poi anche nella riformazione dopo perché appunto la tecnologia galoppa e le competenze si modificano molto velocemente per cui non c'è più un solo ciclo di vita di studio lavoro pensione ma ci sono tanti cicli di vita che adesso si cominciano a vedere e che si ripetono fra di loro e che richiedono un impegno sempre superiore quindi grazie per questi importantissimi messaggi grazie a tutti Grazie a tutti